Il mondo venatorio, agricolo e della protezione ambientale si è riunito a Braccagni per la conferenza regionale della caccia 2019, a dieci anni dall'ultimo evento del genere che si è tenuto in Toscana. Dal 2009 ad oggi molto è cambiato nel mondo rurale, dalle gestioni culturali alle competenze istituzionali passate dalle province alle regioni. La conferenza è quindi un momento di valutazione e riflessione per tracciare un nuovo corso della gestione faunistico-venatoria in Toscana, anche alla luce di alcune emergenze come quella degli ungulati. Credo che una cura maggiore del nostro territorio, un aspetto di maggior rispetto anche del lavoro che fanno gli agricoltori, un aspetto di maggior funzionamento delle zone di ripopolamento e cattura che fanno tutte parte dell'ambito del piano faunistico-venatorio abbiano bisogno di essere rimessi al centro dell'attività della regione toscana in un confronto continuo e costante con le associazioni venatorie e le organizzazioni agricole insieme anche al mondo ambientale. Fra le priorità affrontate durante la conferenza, il piano faunistico regionale, il sovrannumero degli ungulati, la scomparsa della selvaggina stanziale, il nuovo calendario venatorio. I cacciatori in Toscana sono circa 70.000.